Facciamo entrare, Massimo Ragneri! Come dicevo, dopo tre giorni ritornai da lei con in mano un mazzo di rose, rose rosse. Davole non si muore e non mi so spiegare perché muoio per te, da quando ti ho lasciato sarà perché ho sbagliato, perdere l'amore. Noi è qui, siamo soli qui, noi sì, soli qui, fai di me qualche vuoi, sono qui, cacciato in cielo e bavi dimmi che è l'angelo e occhi al cielo. Sembravi Quasimodo. Ci sono cascato di nuovo, ci sono cascato di nuovo. Oh mio Dio! Così era questo? Ti stavo chiedendo, so che hai un grosso featuring per le mani. Ma che mi ha spiato mentre mi cambiavo? No, intendevo che è una grossa... Malandrino! Eh, però ce n'è un po' di malandrini qua, perché vedo che ridono, so che... Allora, secondo me Gigi la scriverebbe così. Quando è stanocce, quando è stanocce nasce Gesù, mon amour, mon amour. Io chiedo un forte migliori augur, mon amour, mon amour. A piedi nudi tutti a bailar, a Natal, a Natal, tutta la nocce si chiede a star. E poi, come va bene? Quando è stanocce nasce Gesù, mon amour, mon amour. Io non c'erano farli migliori auguri, mon amour, mon amour. A piedi nudi tutti a bailar, a Natal, a Natal tutta la nocce si chiede a star. le canzoni devono restare quelle tu immagina Mahmood che scrive una canzone di Natale e si mette a cantarla non è bello potrebbe fare tipo non lo so in periferia non fa più caldo c'è papà Natale sta arrivando me lo champagne solo a Capodanno non lo so San Giovanni che scrive un pezzo di Natale non ce lo vedo ci piace giocare facciamo una zonca il nome ad un eroe quella volta si è già giocato mi sei a pensione e rivenne da 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 e poi capo da 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 quella che fa 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 non è bello questo è bellissimo bravo 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 oddio che ridere non lo so potremmo fare Tiziano Ferro va 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 voglio farti un regalo qualcosa di grande perché mi guardi così? no perché c'era voglio farti un regalo qualcosa di grande con no 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 si è impressionato qualcosa di raro ma perché mi guardi così? sta vendendo l'ansia di quelli che apri poi piangi grazie e è è è è Grazie a tutti.